Riaprono le porte dell'Università delle Tre Età di Giarre che per il primo appuntamento di gennaio 2018 ha deciso di dedicare un incontro ad una tematica leggera e interessante per gli appassionati di auto d'epoca e non solo. La grande storia delle piccole auto è il titolo della conferenza svoltasi presso la Sala Romeo nei giorni scorsi, che ha visto intervenire lo studioso e collezionista Pietro Marano che per l'occasione ha deciso di portare alcune macchinine a pedali appartenenti alla sua collezione personale. Con un tuffo nel passato, l'ingegner Marano ha ripercorso la storia di carrozze e carrozzini, dando cenni sulla genesi del triciclo e della bicicletta, sino ad arrivare alla nascita dei primi modelli di auto a pedali, viaggiando indietro nel tempo e attraverso i vari stati che hanno visto il boom di vendite di questi particolari modelli. La componentistica di queste auto già esisteva nelle industrie di fine ottocento e prima del novecento per quanto riguarda il triciclo e le carrozzelle. La prima automobile è stata sempre un triciclo con un motore a scoppio. Consideriamo che Enrico Bernardi, che è stato l'inventore del motore a scoppio nel 1882, quindi il primo motore a scoppio a benzina, però non ha avuto l'accortezza di brevettare questo. Per cui questo avvene nel 1884. Nel 1886 il primo mezzo, se muovente, è stato proprio un triciclo realizzato con un motore a scoppio da Carl Benz. Queste piccole auto poi compaiono anche negli spot pubblicitari dei primi del novecento e è un fenomeno che comunque non è racchiuto solamente in Europa, ma si sviluppa anche nelle diverse nazioni. Sì, diciamo che si sviluppa anche in America, quasi contemporaneamente, perché era una questione anche di spionaggio industriale, perché era un giocattolo innovativo e quindi era praticamente preso in tutti i mercati. Ed è stato pubblicizzato dai magazine, quindi i primi grandi magazzini che si trovavano sia in Europa, quindi Francia, Inghilterra e Italia, sia in America. Numerose sono state anche le mostre organizzate dall'Associazione Routine e Pedali, di cui Marano è presidente, e non sono mancate nemmeno alcune comparizioni in trasmissioni televisive sulle reti nazionali. Abbiamo avuto l'occasione di poterle fare vedere in tre puntate, quindi una puntata con i tricicli e le carrozzine, un'altra puntata con le auto a pedale e un'altra ancora con le auto con il motore termico. Appunto si è dato la possibilità, il RAI 2, di poter farle vedere a mezzogiorno in famiglia. Ma nel 2011 anche il RAI 3 ha fatto un rotocalco che riguardava proprio la collezione di queste auto. Grazie.